dispiace innanzitutto per come si era messa la partita, nel senso che magari con i secoli ma te la giochi 12 quando con 11 sicuramente sarà un'altra partita, magari forse anche l'espulsione ci ha dato quella carica in più, perché nello spogliatore ho visto una squadra carica, una squadra che voleva un risultato e penso che la squadra non abbia le merita anzi come diceva lei, forse nel secondo tempo abbiamo avuto un po' più occasioni noi, perché quella palla, ma io vorrei solo rivedere nel primo tempo quel fallo di mare, quel calcio di regole, solo quello che volevo rivedere, perché la squadra ha retto bene, venivamo su un campo importante, difficile, siamo stati, rispetto a domenica scorsa, penso che la squadra abbia dimostrato di avere carattere, di avere una fisionomia, come ha detto lei, ha dimostrato di saper leggere la partita, di sapere quando attaccare, quando palleggiare e quando magari soffrire, quindi questo è un mento dei ragazzi. Perfetto, noi nel primo tempo abbiamo cercato di avere due terminali offensivi un po' più distrutturati come erano Riosa e Bordon, quando siamo rimasti uno in meno avevo due giocatori abbastanza rapidi, palleggiatori, che erano sia articoli che Mercuri, il loro lavoro l'hanno fatto bene, ma fortunatamente, ecco, come diceva sempre lei, noi abbiamo una squadra dove esce un giocatore e entri un altro, hanno la stessa voglia di dimostrare quello che è, di poter giocare, mi dispiace soprattutto per quelli là che non stanno giocando, che non hanno giocato, vedi Mancini, vedi gli altri che non sono entrati e questo mi dispiace molto, ma grazie a loro che va in campo da sempre al 100%. Facevamo fatica, bravo, no no, facevamo fatica, i nostri due, quelli più avanti dove dovevano lavorare in fase non possesso, a volte rimanevano troppo dissoniti, quindi spaccavano la squadra, centrocampo e difesa erano ben… può accadere, cioè noi abbiamo… 2004 dove Dimeo ha fatto bene con San Benedetto, Dino Cenza ha fatto bene, votano e chi sta bene va in mezzo al capo, quindi Rossi è uguale a Dino Cenza, è uguale a Dimeo. Noi tutte le partite sono… tutte le partite dobbiamo… dobbiamo onorare la maglia, mi dispiace quella che è successo domenica scorsa, perché la squadra è… in settimana ci siamo parlati, non è stata… non ha avuto un approccio sicuramente degno di quello che è realmente la nostra squadra e questo dispiace. Oggi penso che abbiamo dimostrato fuori casa uno meno di essere una squadra che onora la maglia, ma soprattutto chi ha rispetto di una proprietà, di una città e di cui i tifosi fanno i chilometri per starci vicino. Il finale di… quando è finita la partita andare sotto di loro e vedere le loro facce contenti a me mi rende orgoglioso, perché i tifosi fanno i sacrifici e noi dobbiamo sempre cercare di dargli il massimo.